ben ritrovati all'appuntamento salva un amico siamo alla struttura zoofila Enpa di Sondrio in compagnia di Tiziana e di Brad ciao Brad quanti anni ha Brad allora Brad ha circa cinque anni lui arriva dal centro Italia è un cane che è stato era abituato in strada quindi ha sempre fatto la vita da strada cane molto intelligente abituato probabilmente a trovarsi lui il cibo è arrivato qua da circa due settimane è il cane molto dolce cerca proprio il contatto con gli umani cose che probabilmente anche per lui non c'è mai stata essendo stato un cane di strada e lui che razza è è un incrocio labrador pitbull questo non può non è una razza pura è molto bravo e come vaccinazioni è tutto regolare non segue nessuna dieta particolare neppure lui quindi subito adottabile adottabile molto bravo in passeggiata gli piace un sacco interagisce benissimo con cani maschi e femmine non stuzzica nessuna con i gatti è da testare però l'incrocia qua perché abbiamo il gattile ma non non si scompone lui è il nostro Brad Pitt della struttura e come famiglia quale potrebbe essere la famiglia la famiglia ideale una famiglia anche con bambini lui è molto bravo sta con tutti non si fa problemi ho visto che anche con me si è fatto subito coccolare l'unica cosa che soffre tanto qua essendo stato un cane di strada e quando lo si rimette in bozzo e lui piange ok l'uscita è tanto esuberante il rientro è sempre difficoltoso perché non vuol tornare dentro quindi diciamo che magari una casa con giardino potrebbe essere preferibile per lui meno tempo ci sta in struttura qua come per tutti i cani deve essere solo un transito il passaggio qua al canile sarebbe bene per lui farebbe tanto bene allora speriamo che Brad possa presto trovare una casa per adottare o avere ulteriori informazioni basta contattare il canile empa di montagna in valtellina al numero 349 5541 691 o alla mail sondrio chiocciolaempa.org